quando parliamo di youtube questa community formata da ragazzi ragazze uomini donne persone anche anziane perché ci sono anche persone anziane che hanno un loro canale dobbiamo o meglio non si può non parlare di lui sto parlando di Will Wush ossia Guglielmo Scilla personaggio pubblico attore ma soprattutto youtuber italiano Guglielmo Scilla, Will Wush, vi ricordo che è uno straordinario attore italiano, romano che grazie ai suoi video è riuscito a emergere e a diventare famoso quindi per Guglielmo Scilla youtube è stato il mezzo che ha fatto la differenza perché grazie a youtube lui è diventato famoso è stato youtube che è stato per lui un autentico trampolino di lancio per fare in modo che arrivasse alla popolarità, al successo, alla fama, alla gloria alla per così dire immensa popolarità di cui sta beneficiando ed io di Guglielmo Scilla ho una opinione eccellente sfido voi a creare video come ha fatto lui in cui lo spettatore non si annoia e soprattutto non si spaventa nell'ascoltare le sue parole e nel vedere quello che lui fa, che lui svolge nei suoi preziosi video che poi va a pubblicare chiaramente nelle web io, come dire, ho sempre avuto di lui una stima immensa ed è cresciuta nel corso degli anni ogni video mi ha regalato sorrisi mi ha regalato emozioni mi ha regalato sensazioni di puro benessere ma soprattutto allegria elevata allegria approfondita simpatia e momenti di puro divertimento io invito tutte quelle persone che purtroppo sono sulla sedia a rotelle oppure che sono malati terminali o per un tumore o per un cancro quindi oppure per chissà quale altra malattia cronica a vedere i video di Guglielmo Scilla per ridere, per spensierarsi e non pensare alle brutture che la vita ci mette davanti io rivolgo a voi, utenti di YouTube un appello, quello di iscrivervi se ancora non l'avete fatto al suo canale Willwush vi faccio lo spelling W-I-L-L-O-O-S-H Willwush perché vi renderete conto di avere davanti un ragazzo davvero straordinario capace di portare in scena diversi personaggi che sa interpretare alla perfezione ogni video infatti ha come caratteristica determinante quella di calarsi da parte di Guglielmo alias Wu in personaggi diversi che va a incarnare a interpretare e quindi sa fonderli sa compenetrarsi e sa farsi evidenziare molto molto bene io ringrazio tutti per l'ascolto io ringrazio tutti per la visione del presente video iscrivetevi mi raccomando commentate mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate di Guglielmo Scilla alias Willwush il mitico ragazzo che fa video veramente con grande capacità saluti a presto e Willwush rimarrai e resterai ma sarai per sempre un grande attore un grande combico ma soprattutto un grande personaggio di Youtube Italia in Italia